9 dicembre 1926 Nasce a Pavì, in Francia, Bruno Trentini Laureatosi in giurisprudenza, torna in Francia nel 1941 dove combatte contro la Repubblica di Vichy Segretario generale della FIOM dal 1962 al 1977 è fra i protagonisti dell'autunno caldo Trentin ricopre la carica di segretario nazionale della CGL dal 1988 al 1994 Muore nell'agosto 2007 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti